6 anni di carcere per un 46enne ascolano condannato dal Tribunale collegiale di Ascoli Piceno per le accuse di stalking, violenza privata, minaccia, violazione di domicilio, elusione di un provvedimento del giudice, tutti nei confronti dell'ex convivente 28enne e di altre persone alle vicine. Tra i fatti contestati, quelli di aver picchiato la donna, averla chiusa in casa impedendole di uscire, ma anche di averla minacciata di morte dopo aver violato il suo domicilio più volte averla costretta ad assumere farmaci a lei non necessari. La vittima, esausta di subire le vessazioni, nel luglio 2021 chiese aiuto infilando sotto la porta di un vicino di casa un biglietto che poi è arrivato alla polizia e quindi alla procura di Ascoli che attivò immediatamente il cosiddetto codice rosso disponendo che la giovane fosse portata al sicuro in una casa protetta. Il procuratore Umberto Monti aveva chiesto una condanna a 12 anni contestando anche il furto e l'estorsione, ma il collegio ha assolto l'imputato per questi reati. La procura contestava anche l'aggravante di aver commesso i reati mentre era sottoposto a sorveglianza speciale per ripetuti precedenti episodi analoghi a carico dell'ex moglie e per numerosi reati commessi nei confronti di altre persone. I ripetuti casi di violenza sarebbero stati messi in atto nei confronti della 28enne ma anche dei suoi familiari e amici tra i quali anche un ex fidanzato contro i quali l'arrestato ha minacciato ritorsioni se lei non fosse tornata con lui dopo aver interrotto la relazione.